Il Paese che vivo oggi è un Paese forte, è un Paese leale all'Alleanza Atlantica, leale all'Europa, è un Paese che ha saputo fare delle manovre di politica economica di sostegno alla propria economia, è un Paese che cresce a più del 3,5% oggi e 6,5% l'anno scorso, è un Paese che ha ridotto l'indebitamento. Questo è il Paese che porto. Cosa vuole che faccia previsioni su quello che succede? C'è tanta gente che dice cose contrarie e c'è tanta gente che invece conferma questa visione nel panorama politico attuale. Non condivido questa visione sempre negativa e c'è il PNRR che non funziona. No, funziona, va avanti. E c'è quello che la pensa invece, ama i russi alla follia e vuol togliere le sanzioni e parla tutti i giorni disnascosto con i russi. E vabbè c'è, c'è pure lui. Però c'è tanta gente che non lo fa. Cioè la maggioranza degli italiani non lo fa e non lo vuol fare. Quindi io direi quando vedo queste cose, guardo alla maggioranza degli italiani, guardo al governo che ho avuto l'onore di presiedere. Guardo all'Italia che ha prodotto questo governo o ha contribuito a produrre questo governo. Guardo all'Italia. Guardo all'Italia. Guardo all'Italia. Guardo all'Italia. Guardo all'Italia. Guardo all'Italia. Grazie.